I referendum farsa all'interno dei territori occupati dell'Ucraina non avranno alcun effetto legale e politico anche sullo status della centrale nucleare di Zaporizia. Lo hanno scritto i ministri degli esteri di Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Canada, Repubblica di Corea, Svizzera, Stati Uniti e Unione Europea assieme all'Ucraina. Nella loro dichiarazione congiunta all'ONU hanno chiesto anche alla Russia di ritirare immediatamente le sue truppe all'interno dei confini internazionalmente riconosciuti e rispettare l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina.